tanti auguri al cinema massimo che io ho frequentato quando facevo l'università e per un paio d'anni e che è un luogo di felicità e di condivisione in cui ho visto buona parte dei film più belli della mia vita e che mi fa casa come buona parte del piemonte ma soprattutto quella strada lì auguri